Eccoci tornati ad un nuovo appuntamento con cronache e commenti. L'appuntamento appunto settimanale che vi racconta il Parlamento Toscano, quello che si è dibattuto durante questa settimana, tra l'altro dove si è svolto il Consiglio regionale al Palazzo del Pegaso. Tra i tanti argomenti si è parlato anche e soprattutto della crisi del settore moda con una mozione che è passata in Consiglio, parleremo di questo ma anche di altri temi che andiamo subito a vedere con il sommario. Approvata all'unanimità una mozione sulla crisi e sul futuro rilancio del settore moda. Il Consiglio regionale approva una mozione sulla richiesta al governo dell'abbattimento dell'IVA al 10% sul Pellet. L'assessore Baccelli ha risposto ad un'interrogazione dell'opposizione sulla sicurezza nei treni. È stata votata all'unanimità da tutto il Consiglio regionale la mozione che prevede la messa in campo di tutto quanto possibile per il rilancio del settore moda. Un settore che rappresenta il 40% del sistema produttivo toscano e che dopo la manifestazione dei sindacati di martedì scorso a Firenze ha unito maggioranza e opposizione e ottenuto l'impegno delle istituzioni regionali nel medio-lungo periodo. La regione in maniera compatta ha espresso richieste specifiche al governo, unica istituzione che può intervenire con aiuti concreti nell'immediato. La sintesi di questa collaborazione che ha visto un voto unanime di tutto il Consiglio è racchiusa in un documento dove accanto alla solidarietà ai lavoratori si richiede un impegno forte alla regione toscana per quanto riguarda le sue competenze, vale a dire le politiche attive, quindi tutte le misure atte a sostenere l'innovazione di processo, a sostenere la possibilità di aggregazione delle imprese, quindi a creare le condizioni affinché il prodotto che loro offriranno al mercato possa essere un prodotto che recupera competitività. Le altre richieste invece sono rivolte al governo e sono richieste che riguardano il prolungamento degli ammortizzatori sociali, l'allungamento e l'allargamento a tutti i lavoratori della filiera della moda, della possibilità di avere cassa integrazione, il favorire e mettere a disposizione strumenti di sostegno al credito per quanto riguarda le imprese che si trovano in difficoltà, la creazione di un tavolo fra il Ministero delle politiche sociali e il Ministero del lavoro. Avevo preso un impegno ieri con le lavoratrici, i lavoratori, con i sindacati che hanno scioperato, l'impegno era quello di cercare di uscire con una posizione unitaria che prenda impegni della Regione ma che anche chiede impegni al governo. Non è il tempo della campagna elettorale, è il tempo di dare risposte a quelle lavoratrici e quei lavoratori che rischiano davvero di perdere il lavoro. Dobbiamo fare in modo che il governo rifinanzi la cassa integrazione anche dopo le otto settimane previste per quest'anno. La Regione deve costruire condizioni per sostenere le imprese del comparto della moda. Oggi a soffrire di più sono le imprese che lavorano nella filiera più bassa e sono soprattutto quelle lavoratrici e quei lavoratori che rappresentano un patrimonio unico a livello nazionale e internazionale. Un dovere politico da parte di tutte le forze politiche che rappresentano il Consiglio regionale, un dovere dopo aver ascoltato ieri i sindacati, un dovere che arriva però da lontano perché la seconda commissione su mia sollecitazione si era già occupata più volte della crisi del settore, aveva avuto modo anche di udire gli assessori ed iniziare un percorso appunto per cercare di dare un contributo attivo e fattivo su questa crisi. Una mozione appunto che va su due binari paralleli, il binario del breve periodo e quindi senza far nascondere quello che deve fare il governo e quindi oltre alle otto settimane di cassa integrazione che ha già confermato per il 2024, fare un ulteriore passo in avanti anche per il 2025, quindi un ulteriore aiuto per tutte le imprese e quei lavoratori che in questo momento non sanno quale sarà il proprio futuro e poi anche un settore più a lungo termine, oltre a quello della formazione, oltre a quello del lavoro, quindi oltre a tutte le competenze regionali, più a lungo termine la regione toscana deve guardare alla tutela del marchio Made in Tuscany e degli investimenti affinché ci siano delle aggregazioni d'impresa. Sì, noi ci aspettavamo intanto che fosse presente l'assessore Nardini, la quale non interpreta il proprio ruolo facendo opposizione al governo, ma noi non pensiamo che sia quella la funzione di un assessore regionale al lavoro che dovrebbe occuparsi di questa crisi, venendo a dirci quanti soldi ha messo in campo la regione toscana per contrastare la crisi del settore moda, che è un settore strategico a livello regionale, quali iniziative, quali iniziative da un punto di vista di formazione, da un punto di vista di permettere alle aziende di poter rimanere insediate sul nostro territorio. L'assessore fa o tenta di fare il parlamentare di opposizione, ma il suo ruolo, ahimè, ahimè, ahimè per la Toscana è un altro, è quello di governare questa regione. Dopodiché noi diciamo che se siamo arrivati a questo punto ci sono delle responsabilità politiche importanti. Il settore soffre sicuramente di una crisi che viene da fuori, di una crisi internazionale, ma le aziende del settore moda sono arrivate a questa crisi fiaccate da una concorrenza sleale, fatta da tantissime aziende abusive, da tantissimo sommerso che succedeva nel bandone accanto. Nelle aziende italiane si rispettavano leggi, regole, regolamenti, leggine, norme e via dicendo. Nel bandone accanto c'era chi poteva fare le stesse cose, concorrere sullo stesso mercato, infischiandosene di quelle regole, calpestando qualsiasi norma sui diritti dei lavoratori. La sinistra, i sindacati se ne sono dovuti accorgere quando ci sono stati i pestaggi per mano dei picchiatori mandati da alcuni datori di lavoro. Devo dire, mi ha fatto molto piacere ascoltare le parole sia di Forza Italia che della Lega riguardo al fatto, e lo dico in senso ironico, che la Regione debba fare qualcosa perché queste parole le prendo come faro nella presentazione della mia proposta di legge di prossima discussione sulla costituzione dei consorsi di sviluppo industriale. Cioè la sottoscritta insieme al Presidente della Commissione Sviluppo Economico e al Partito Democratico, nella persona del suo capogruppo Vincenzo Ceccarelli, ha portato alla redazione di una proposta di legge che cerca proprio di dare una proposta, una risposta ai settori in crisi, a cominciare dall'automotive, ma teniamo ben presente che quello che ci aspetta è una stazione di grandi crisi industriali perché appunto il mondo sta attraversando una grande crisi dovuta a molteplici fattori, quindi coloro che oggi auspicano un intervento della Regione in proposte, oltre che nel cercare di tamponare la crisi attuale, spero che li vedrà concordi nell'approvare una proposta di legge che offre appunto una cornice legislativa capace di dare delle risposte a delle crisi aziendali. Nell'ultimo Consiglio regionale si è dibattuto anche sulla necessità di un sostegno alle famiglie, soprattutto quelle che abitano in zone montane, sull'acquisto del pellet da riscaldamento. Riportare dunque la liquota al 10%. L'atto, approvato con i voti di PD Italia Viva, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Gruppo Misto, contrari ai 5 Stelle, impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo affinché già in occasione della prossima manovra di bilancio per il 2025 venga ristabilita la liquota IVA agevolata al 10% per l'acquisto appunto di pellet. Una questione molto rilevante sia per le famiglie sia per le imprese forestali. Sappiamo che si è diffuso sempre di più il pellet come fonte dal punto di vista dei consumi domestici in questi ultimi anni anche perché ha una forte potenzialità energetica e ha ovviamente anche costi più contenuti. Nel 2023 era stata introdotta con la legge di bilancio la diminuzione dell'IVA dal 22 al 10% che è rimasta solo nel 2023 e poi nel gennaio e febbraio del 2024. Siamo ritornati all'IVA al 22% e molti cittadini, molte amministrazioni comunali delle aree montane dove chiaramente i bisogni dal punto di vista del riscaldamento sono maggiori dove il pellet è una fonte sempre più utilizzata e anche devo dire le imprese del settore forestale per i quali ovviamente la produzione di pellet è un elemento molto importante dal punto di vista produttivo chiedono alle istituzioni di reintrodurre questo taglio dell'IVA. Ecco, noi come Consiglio regionale abbiamo voluto porre all'attenzione del Parlamento e del Governo questa necessità importante per le famiglie, per le aree montane e per le imprese di questo settore dove appunto questa tassazione al 22% non fa che scoraggiare l'utilizzo di una risorsa sempre più importante per tante famiglie. Sì, è una proposta interessante che nasce nella commissione aree interne, devo dire passata all'unanimità questo perché il pellet è un materiale a uso per il riscaldamento che viene usato soprattutto nelle zone montane dove il trasporto del prodotto energetico, perché il metano raggiunge pochissimi centri montani e non solo, devo dire, anche nelle campagne più prossime e quindi il trasporto del GPL innalza di tantissimo il costo del riscaldamento è un prodotto peraltro legato al bosco, è un prodotto che in qualche modo crea economie da quello che sarebbe lo scarto e la lavorazione del legno mette in condizione le famiglie di potersi riscaldare per un periodo più prolungato perché dobbiamo considerare che montagna all'inverno inizia prima e finisce dopo quindi riportare al 10% l'IVA piuttosto che al 22% come è tornato ad essere da qualche mese è una proposta veduta che va incontro alla necessità di vivere in quei luoghi considerando anche che l'aspetto economico delle famiglie che hanno fatto questa scelta o che sono rimaste per l'impossibilità di muoversi è più basso di quello della città quindi abbiamo sostenuto con convinzione e speriamo che il governo sia così lungimirante da approvare e riportare l'IVA al 10% Durante la seduta del Parlamento Toscano l'assessore ai trasporti Baccelli ha risposto ad un'interrogazione presentata dal consigliere della Lega Baldini sulla sicurezza nei treni L'assessore tra i dati esposti ha evidenziato che su oltre il 70% dei mezzi assegnati al servizio ferroviario regionale è attivo l'impianto di videosorveglianza e che nel 60% si prevede anche la funzione live con la possibilità di visualizzare in tempo reale sui monitor del treno immagini in diretta delle telecamere attive anche sulle altre carrozze così da svolgere un'azione preventiva e deterrente nei confronti di aggressioni e atti vandalici ma di come queste immagini possano anche essere visionate dalla Polfer Soddisfatto della risposta a metà il consigliere Baldini Noi abbiamo sollecitato l'attenzione dell'assessore Baccelli, l'assessore competente su questo tema per capire quali erano gli atteggiamenti, le proposte, le azioni che in regione toscana sui treni regionali che sono ovviamente attenzionati in particolar modo dal problema della sicurezza l'assessore Baccelli ci ha dato una risposta piuttosto precisa, puntuale di cui ho chiesto naturalmente copia per analizzarla meglio però fra le risposte date c'è quella che le aggressioni sarebbero spesso determinate dalla colluttazione che nasce dalla verifica che il biglietto chi sta sul treno non ce l'ha quindi l'ipotesi di un tornello che fermi prima ovviamente potrebbe evitare correttamente probabilmente l'eventuale colluttazione. Però è evidente, noi abbiamo fatto un ragionamento anche allargandolo al di là della questione specifica, è evidente che c'è una situazione secondo noi di pericolosità, di insicurezza che è legata anche al fatto che in Italia ahimè c'è in arrivo un numero di estracomunitari in questi anni, in tanti anni il governo della sinistra che ha inevitabilmente pregiudicato una situazione. Per fortuna c'è un pacchetto sicurezza approvato dal governo fortemente voluto dalla Lega che prevede un inasprimento delle pene per quanto riguarda i reati che si consumano sulle carrozze ferroviarie e nelle stazioni però tutto questo non basta anche perché c'è un quadro generale che va a incidere su queste vicende secondo noi, secondo la Lega, che tocca anche per esempio una risposta che in Toscana non viene da alcuni punti di vista, penso all'assenza dei CPR. Allo stesso modo per quanto riguarda certe situazioni di interpretazione giurisprudenziale che danno luogo a un atteggiamento da parte di una certa magistratura per cui a fronte di determinate situazioni non c'è una risposta assolutamente ferma dal punto di vista sia cautelare che dal punto di vista dell'applicazione appena effettiva. È davvero tutto per cronache e commenti. Grazie ad aver seguito anche per questa settimana la nostra trasmissione. Ci rivedremo come sempre fra sette giorni, la prossima settimana con nuovi temi che sono dibattuti nel Parlamento regionale. Dunque ci rivediamo fra sette giorni su Teletruria. Arrivederci. Grazie a tutti.